Buonasera, benvenuti all'appuntamento con il TG News Pordenone e Veneto Orientale. Apriamo con la richiesta di giudizio immediato nei confronti dell'imprenditore bulgaro che aveva travolto con la sua auto la vettura nella quale viaggiavano le due cugine Sara e Jessica, morte nell'impatto. Dovrà rispondere di omicidio stradale pluriaggravato. La Procura della Repubblica di Pordenone ha chiesto il giudizio immediato per Dimitri Trajkov, l'imprenditore di 62 anni bulgaro, accusato di omicidio stradale pluriaggravato per l'incidente avvenuto da Zano Decimo sulla A28 il 30 gennaio scorso, in cui hanno perso la vita le cugine Sara Rizzotto, di 26 anni, e Jessica Fragasso, di 20. Nel sinistro sono rimaste gravemente ferite anche le figlie di Sara, che si trovavano a bordo della Fiat Panda travolta dal fuoristrada. I genitori di Jessica, che seguivano l'auto a bordo di una Fiat 500, a sua volta coinvolta nel sinistro, hanno invece riportato lesioni lievi. La Procura, dopo aver completato la ricostruzione dell'accaduto, grazie alle testimonianze e ai rilievi medico-legali, eseguiti anche con l'ausilio della Polizia Stradale di Pordenone, ha ritenuto evidente la colpevolezza del conducente e ha chiesto al GIP di disporre rinvio a giudizio davanti al giudice monocratico. Per il procuratore capo Raffaele Tito, i profili di colpa sono da individuare nell'eccessiva velocità del SUV, che viaggiava a 180 km all'ora, nella guida in stato di ebrezza del bulgaro e nell'omessa distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva. Al 62enne, attualmente agli arresti domiciliari, è stata anche contestata l'aggravante di essersi dato alla fuga, omettendo di prestare assistenza alle persone ferite. Ed anche a Pordenone, come in tutte le città capoluogo in cui è presente la Questura, è stato celebrato il 170esimo anniversario della Polizia di Stato. È stato anche un momento utile per fare un bilancio dell'attività della Polizia di Stato sul territorio della destra, tagliamento il servizio. Oltre 13.000 chiamate al numero unico di emergenza per una media di 37 al giorno, con 2.798 interventi di polizia. È uno dei dati principali che raccontano l'attività svolta dalla Polizia di Stato in provincia di Pordenone nel 2021. 714 le persone denunciate e 51 gli arresti, mentre sono stati sequestrati complessivamente più di 38 kg di droga. L'occasione per un bilancio dell'attività sono state questa mattina le celebrazioni per il 170esimo anniversario di fondazione della Polizia di Stato, cominciate con gli omaggi alla memoria dei caduti e culminate nella cerimonia nella sede della ex provincia, con la consegna dei riconoscimenti agli agenti che hanno portato a termine importanti attività. Il confronto con il 2020 mostra come l'allentamento del lockdown abbia fatto registrare un aumento di diverse tipologie di reati, dalle lesioni dolose ai furti con strappo, dalle rapine ai danneggiamenti. Ma crescono anche di molto le truffe informatiche, mentre diminuiscono i furti sulle auto in sosta e lo spaccio di stupefacenti. Tra le operazioni principali, quelle che hanno portato all'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere, da una parte per una banda di quattro persone accusate di una serie di assalti con le ruspe in alcune aree di servizio, e dall'altra per i presunti responsabili di una rapina in villa ai danni di un imprenditore. Un'attività della quale il questore Luca Carocci, in carica da pochi mesi, ha reso merito al predecessore Marco Dorisio. Ma all'insegna del motto Esserci sempre, il questore Carocci ha ricordato anche l'impegno della Polizia di Stato nella battaglia contro l'epidemia del Covid, per verificare il controllo delle prescrizioni anticontagio e poi con la somministrazione, da parte dell'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura, di oltre 1.500 dosi di vaccino. Il risultato è stata una percentuale del 100% di vaccinati nell'organico della Questura, tanto che al momento dell'introduzione dell'obbligo non si sono resi necessari i provvedimenti di diffida o sospensione dal servizio. Infine, i momenti di approfondimento per la prevenzione di alcuni tipi di reato, come le truffe agli anziani, le frodi informatiche e il cyberbullismo, per esempio con la recente iniziativa dedicata ai più giovani, Una vita da social. Parliamo adesso di sanità. Andranno assunte almeno 282 persone da impiegare nella sanità del Pordenonese, scattato il nuovo piano dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale. Ce ne parla Daniele Boltini. L'azienda sanitaria del Friuli Occidentale cerca la quadra per soddisfare il fabbisogno di personale. La carenza di medici, infermieri e operatori sociosanitari è diventata ormai cronica e la direzione si è messa in moto per riempire i buchi. Il 2021 si è chiuso con un bilancio negativo, in quanto, escludendo il personale assunto per l'emergenza Covid, hanno firmato un contratto con l'Asfo 278 nuovi dipendenti, ma 325 hanno dato le dimissioni, con un saldo negativo quindi di 50 unità. Al 31 dicembre scorso i dipendenti complessivi dell'azienda erano 3.619 e l'obiettivo per quest'anno è di assumere 282 persone per raggiungere la soglia di fabbisogno a 3.900 unità. Traguardo non facile per il direttore Joseph Polimeni, considerando le molte fughe di medici e le difficoltà aree per i specialisti, come ormai la consolidata carenza di infermieri in molti reparti che da tempo costringe al taglio di riposi e ferie. Tra le prime mosse al vaglio c'è l'affidamento esterno dei servizi di radiologia di Sacile e Maniago, così da poter dirottare personale in altre sedi, oltre alla cessione della gestione della commissione medica patenti. Una situazione che nei prossimi mesi vedrà un confronto serrato con i sindacati di categoria, in un rapporto ormai deteriorato con la direzione dell'ASFO. Remaniamo a Pordenone, città, dove si parla della riqualificazione del Parco Galvani, un dibattito sempre aperto. Sentiamo con Francesco Colussi cosa pensano i residenti. Il progetto di riqualificazione ambientale del Parco Galvani a Pordenone, presentato a fine febbraio dal sindaco Alessandro Ciriani e dall'assessore all'ambiente Monica Cairoli, sta animando il dibattito cittadino, in particolare tra i residenti della zona. Con questo complesso intervento, che in primis prevede la rimozione delle recinzioni per renderlo uno spazio urbano aperto 24 ore su 24, l'amministrazione comunale punta a valorizzare strutturalmente e naturalisticamente il Parco, fra i più amati dai pordenonesi. Il progetto risale al 2016 e la chiusura dei lavori, tuttora in corso, è prevista per giugno. L'area con i giochi per i bambini è stata recintata, mentre è stata rifatta la pavimentazione dei vialetti, utilizzando materiale drenante. Sul fronte infrastrutture, su Via Dante, è stato realizzato un nuovo percorso ciclopedonale per connettersi con la rete già esistente. Tra i residenti della zona ferve il dibattito, tra favorevoli e contrari, in particolare sul tema della sicurezza. Noi siamo contenti di questa riqualificazione di questo territorio, di questo parco, perché è molto frequentato da noi residenti che abitiamo qua vicino. La nostra perplessità è la sicurezza. Sicuramente so che metteranno delle videocamere, almeno così se ne era parlato, però purtroppo qua ci sono stati diversi casi di ribaccamento di persone che sostavano qua anche in lungo tempo durante la notte. So che molti si sono lamentati, anche persone che vivono nei dintorni, perché temono che aprire i cancelli significhi anche esporsi a una minore sicurezza. Bisognerà stare attenti e monitorare, essere presenti con gli istituti urbani, i vigili, non lo so, e con una illuminazione anche più consistente. Quando i cancelli erano chiusi c'erano problemi di sicurezza. L'allentamento delle misure anti-Covid ha consentito agli istituti scolastici di organizzare di nuovo le gite, anche se per il momento si tratta di un giorno soltanto. Sentiamo Giulia Soligon. Sei ragazzi erano state annunciate quasi in suardina per non attirare il malocchio, ora la conferma è ufficiale. Tornano nei calendari scolastici le tanto attese gite di classe che l'emergenza epidemiologica aveva fatto sospendere per due anni. Nonostante negli ultimi mesi l'altalenante curva dei contagi le avesse nuovamente messe in forse, ora però con la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, agli studenti è consentito lo spostamento per il viaggio d'istruzione. Restano solo aprile e maggio per fissare una meta e partire. Intanto un recente sondaggio di Tutto Scuola rivela che più del 90% delle scuole sul territorio italiano resterà all'interno dei nostri confini, privilegiando le città d'arte come Trieste, Bologna, Napoli, Roma e Firenze. Solo una piccola percentuale, circa l'8%, si sposterà all'estero e tra questi sicuramente i maturandi. Una situazione analoga anche negli istituti scolastici del Pordenonese, dove resta ancora lontana l'idea di un'esperienza di quattro giorni. Si riparte sì, ma con viaggi più brevi di una sola giornata o due con pernotamento di una notte. Insomma, una fuga di due giorni per ritrovare la carica da affrontare l'ultima parte dell'anno, perché su tale punto tutti i dirigenti concordano. È importante dare ai ragazzi questo momento di condivisione, che vale ancora di più della scuola in presenza. Chi ha 30 anni dalla strage di via D'Amelio a Palermo, nella quale perse la vita il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta, Fiammetta Borsellino, la figlia minore del giudice, è stata a Pordenone per una serie di incontri pubblici. Ha incontrato anche gli studenti dell'istituto Vendramini. Sentiamo il servizio di Francesco Colussi. Il 19 luglio del 1992 viene ucciso a Palermo il magistrato Paolo Borsellino, una delle personalità più importanti e prestigiose nella lotta alla mafia in Italia e a livello internazionale. Una Fiat 126 parcheggiata in via D'Amelio, nei pressi della casa della madre del giudice, con circa 100 kg di tritolo a bordo, esplode, uccidendo il magistrato e cinque agenti della scorta. Quest'anno si celebra il trentennale del tragico evento avvenuto solo 57 giorni dopo la strage di Capaci, dove perse la vita il giudice Giovanni Falcone. Per ricordare la figura del padre e sensibilizzare i giovani sul tema della lotta alla mafia, Fiammetta Borsellino, figlia minore del giudice che dedica la sua vita alla ricerca della verità sull'omicidio del padre e per testimoniare il valore della legalità ai giovani, è intervenuta a Pordenone, prima con un incontro pubblico che si è svolto lunedì sera all'auditorium dell'Istituto Vendramini, mentre la mattinata di martedì 12 aprile è stata interamente dedicata agli studenti del Vendramini, dai più piccoli ai liceali. Gli incontri delle scuole sono molto importanti per parlare di memoria, memoria in quanto esperienze, esperienze positive, esperienze che possono essere portate avanti ancora oggi. Quindi non è un mero ricordo del passato, ma il passato diventa attualità nel momento in cui le esperienze di vita di determinati uomini diventano patrimonio veramente di un popolo. Mio padre era una persona onesta, un uomo normale, che ha fatto semplicemente il proprio dovere. L'ha fatto fino in fondo, senza se e senza ma, e io dico ai ragazzi che è proprio questo l'esempio da seguire. Ognuno nel proprio piccolo deve fare il proprio dovere. I vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, supportati dal nucleo NBCR della sede centrale e dall'autogru del comando di Udine, sono intervenuti alle 6.40 circa di questa mattina sulla strada statale 13 all'artezza di Orcenico e inferiore per il recupero di un'autocisterna trasportante circa 13.000 litri di acido cloridico. L'autocisterna era parzialmente fuoriuscita dalla sede stradale finendo sul ciglio, senza riportare alcun danno ma impossibilità ad uscire autonomamente. Adesso prosegue il nostro viaggio a Razzano X dove si voterà per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del Sindaco. Oggi con Giulia Soligona abbiamo ascoltato l'ex assessore Angelo Bortolus che è tra i candidati. Sentiamo. Elezioni comunale d'Azzano X. Per il centrodestra ritorna in campo l'ex assessore Angelo Bortolus, sostenuto dalla Lega Salvini, Forza Italia Libertà per Azzano e dal nuovo polo civico Lista Bortolus Progetto FVG. Dopo dieci anni di assessorato posso dare ancora qualcosa al mio paese e quanto ha detto ai nostri microfoni il candidato sindaco. La mia discesa in campo è stata diciamo motivata dal fatto che molte persone me lo hanno chiesto durante questi ultimi anni e non ho saputo resistere a questa chiamata e a questa manifestazione di stima che veramente mi ha fatto pensare che avrei potuto dare qualcosa ancora al mio paese. Io assieme alla compagine che mi sostiene stiamo adesso valutando anche quelle che sono le richieste della cittadinanza e delle associazioni che orbitano in questo territorio. Abbiamo una lista veramente motivata, eterogenea, fatta da giovani e meno giovani che si stanno dando da fare molto convintamente e quindi noi vorremmo ricostruire questo tessuto tramite i servizi che il Comune offre incentivandoli soprattutto con il progetto Giovani e con altre collaborazioni con le associazioni presenti nel territorio. E questo era l'ultimo servizio dell'edizione del Tg Pordenone e Veneto Orientale. Vi ringrazio per averci seguito, buon proseguimento di serata con Udinese TV.